bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono il redrist cancelletto 1 parlo recensione di un film del 1990 hansel e gretel hansel e gretel vengono addescati da alcuni sconosciuti mentre tornano a casa dall'oratorio i due piccoli sono trascinati contro il loro volere in una clinica illegale dove è praticato quotidianamente l'espianto degli organi di una serie di bambini vittime di una vera e propria organizzazione criminale senza alcuno scrupolo gli spiriti dei fratellini però tornano in vita per attormentare l'esistenza dei loro carnefici il mio voto a questo film è 7 e di genere dell'orrore la durata è un'ora e 27 minuti il regista è Giovanni Simonelli la regia buona bravo regista bravo attore l'attore è anche Silvia Cipollone, Brigitte Christensen, Giorgio Cerioni, Mauriz Poli, Sandro De Luca, Elisabeth Pineta Boaretto, Zora Creova, Roberta Orlandi, Massimiliano Cipollone, Paul Müller saluto Anna guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto